Dopo essere stati ufficialmente assegnati partiranno a breve i lavori per la demolizione della scuola Filzi e quindi per la realizzazione del nuovo polo agricativo. Sì, è il primo obiettivo che ci siamo posti appena ci siamo insediati. È un progetto che avevo in mente più di vent'anni fa, l'idea di far cadere quella scuola perché era evidente che non si sarebbero mai trovati i soldi per restaurarla e quindi andava sicuramente recuperata quella zona. L'idea è stata quella di un progetto che prevede appunto un campo da basket e una zona di ritrovo per giovani, anziani, prevedere una fontana a raso, delle panchine, degli alberi dove le persone possono tranquillamente trascorrere il loro tempo. Perché la struttura sportiva? Perché è un finanziamento che noi abbiamo preso con il credito sportivo e per accedere a questi finanziamenti bisogna realizzare comunque un'attività sportiva all'interno di questi parchi. Quindi adesso abbiamo iniziato con questa ma abbiamo già in mente di realizzare altri microimpianti sportivi in altre zone di Alba Adriatica. Una delle zone che attualmente sto verificando dove è possibile realizzare qualcosa per i giovani e la zona di Basciani dove pensiamo di realizzare un campetto da calcio. Tornando al progetto del polo aggregativo, lo abbiamo già fatto ma quali sono i costi di questa opera? Dunque i costi a base d'asta erano di 430 mila euro e poi c'è stato un ribasso d'asta quindi vedremo se con questo ribasso d'asta potremo fare delle cose aggiuntive altrimenti insomma la spesa è sui 380 più IVA, una cosa del genere. Quando è previsto la riconsegna dei lavori e dunque l'ingresso dei cittadini in questo nuovo spazio? Allora io spererei la prossima settimana ma oggettivamente questo non è possibile e diciamo che facciamo in modo di essere vigili e sollecitare la ditta che sia giudicata ai lavori e farlo il prima possibile. Il mio sogno è presentarlo per prima di Pasqua ma poi molto dipende anche dalle condizioni meteorologiche, come si possono muovere comunque prima dell'estate ce l'avremo.